Uno dei lavori più cupi di uno dei disegnatori argentini che preferisco in assoluto. Vediamolo insieme. L'albo è Merlino e il disegnatore è Enrique Alcatena. Avevo accennato che non avrei parlato di molti volumi sceneggiati da Wood, ma trattandosi di un autore molto prolifico, credo comunque di aver sintetizzato parecchio. Fondali nero pece, per rendere su pagina il potere oscuro di Morgana e Mordred, ma anche le sfaccettature più occulte di Merlino stesso. Come in Excalibur l'atmosfera è solenne e le cornicette sono fregi celtici. Un viaggio nel ciclo bretone che non è una passeggiata di salute, quanto più una missione speciale nel folto del bosco.